questo piccino è milton appena due mesi arrivato qui in caniglie assieme ad altri dieci cuccioli dieci cuccioli non tutti i suoi fratelli perché dove sono andati a recuperare lui con la sua mamma e questi piccolini c'erano due mamme quindi milton può essere figlio dell'una o dell'altra e noi siamo riusciti a prenderne soltanto una milton è bellissimo sembrerebbe di futura taglia media abbondante la sua mamma è una taglia media completamente diversa da lui anche l'altra mamma non gli assomigliava per niente quindi noi pensiamo che lui assomiglia un fantomatico papà che non troveremo mai non sapremo mai chi è comunque lui è venuto una meraviglia veramente pelo lungo striscia bianca qui sulla fronte un po sul setto nasale le zampine bianche sembra avere i calzini anche alle zampine posteriori ed è di una dolcezza infinita guardate quanto sta bello buono calmo è un angioletto questo cucciolo speriamo che l'adottino subito o crescerà qui in canile poi non lo vorranno più a un certo punto speriamo lo richiedano veramente nel giro di poco tempo ciao piccolo milton buona fortuna ciao